è arrivata la notifica del tuo live provo da qui a darti un po di copertura ma sarà un lungo viaggio questo a eco sarà tosto la faccenda qua infatti ci stanno già nemici qua ottio quanti sono infatti su eco? su eco si sono veramente tanti c'è uno che pinga mille anzi 999 io ho visto nemici mentre spawnavo eh si è arrivato addosso oppa gente ah dai sono martini in rifonteria da 10 metri un'arma righe Ah, che cazzo Lo vedo Ah, che cazzo Ah, che cazzo Sbagliato carro Non c'è un'altra soluzione Non dico tanto Ho preso il mio carro Il carro se vuoi Perché ci stanno trinciando Guarda a sinistra Come hai detto, scusa Se vuoi salire, sali Dove stai? Ah Spambo Guarda le mine qua per terra, guarda Cazzo si fa piazzare le mine qua in mezzo al nulla Oddio Ho fatto il carro con un colpo solo Ma il bemot è nostro, giusto, amico? Sì, sì Oh, che cazzo Oooo carro, l'hanno già noi Eh lo vedo, lo vedo, lo vedo E' andato? No, no, no Non ho visuale, destra, destra Adesso si Ok, cioè abbiamo gente dietro eh Eh lo so io non ho Occhio che adesso sta passando davanti questo qui E' arrivato Adesso mi sembra A posto Magari ripara Credo che abbiamo un altro carro davanti Sta per uscire adesso Ah è carretto stupido Due ne sono Tu ce l'hai, si perché io non lo vedo Lui sta a sinistra o a destra? Io a sinistra sto Ma è bombardiere? Nooo Aspetta rimani così, destra, destra Cazzo Panteria Portami via Indietreggia perché io non la vedo ancora dove sta la panteria Eh sta lungo il canyon Dai fai il giro di qua La foxtrot dovrebbe essere coperta adesso Caputtana Cavallo Sono caluti tutti e due? No Panteria a sinistra Oh Morto Ok abbiamo ancora panteria a sinistra Avanti Ore 11 Dove sta che non lo vedo? C'abbiamo panteria dietro Sento i passi Adesso sto pilota inutile che è Ah ok Mi ha rincorso Si è fatto sentire Ha sparato il flare Ok Chi è che ci ha buttato quella castagna? Eh questa è una Ah è il bot Puh Cazzo Credo che dobbiamo scendere No 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 Adesso si Io sono già sceso Porco cazzo Quattro colpi insieme ci sono arrivati Ma già la madonna Stop automatica Guarda quanti ce ne sono Guarda quanti ce ne sono Ma io ripartirei da Foxtrot a questo punto Oppure se fanno Alpha Solo che quelli da Delta Stanno andando tutti a Foxtrot Ho preso i carri Infatti Emo a Snippo da Foxtrot La leggenda che ci sta qua Eh io ho fatto una cagata Sono ripartito da Alpha Minchia mi ha salvato Mi ha salvato un amico Sennò ero morto C'è il carro di Cristal che mi sta sparando Niente Mi ha preso E basta Tutti a me Tutti a me Tutti a me Un supporto Un assalto E il bombardiere Tutti a me Come se ci stessi solo io Sul server C'è il Cristo Guarda Vai un po' su Alpha Qualcuno ci sta osservando Non sarà una passeggiata Su Alpha Sappilo Eh io sto su Foxtrot Però Annaccio Puttana Ma lei la muore Oddio Quanti Ah sono spawnati qua Forti Va in giro da dietro Su Foxtrot Ci vogliono passare di qua Se riesco a affrancare qualcuno Laggo tantissimo Molta laggo Ma ci sono tanti nemici Di a Foxtrot Porco Noo Questa ha 4 colpi 4 colpi Niente Abbiamo riperso tutti gli obiettivi Se sei morto c'è un mezzo carro lì Non c'è più Non c'è più Stanno Stanno Ho unando Ci hanno doppiato Provo con l'aereo Che stai Con sto ping di merda Con l'aereo Non faccio manco Mezza kill Su Ahi che le faccio un paio di kill Tutti Tutti ammucchiati Stanno Foxtrot Ho colpito col flare Non c'è più Nooo Però 3 me ne sono fatti Sorry Ho calcolato male la distanza Per Dio Un'azione kamikaze Quella era Banzai Dovevi gridare Però 3 Li ho portati In tasca Al diavolo E ora me lo riprendo A vedere Perché mi ha dato gusto La cosa ti ha garbato? Ma tutti su Foxtrot Stanno Sti poldi Ci fosse solo Foxtrot Minchia Ho fatto un cavaliere In movimento Veramente non lo so manco io Come ho fatto Ho usato il prediction mod Oddio che numeri Tu mi sai spiegare una cosa Perché quando sparo il flare Che mi dovrebbe comparire la zona Dove l'ho sparato E mi dovrebbe indicare i nemici Non mi indica Mai Una fava Ripeti la domanda Che ho appena fatto una furia stradale Con l'aereo Non chiedermi come ho fatto Furia stradale con l'aereo Per Dio Quando Sparo il flare Dovrebbe comparire Un ulteriore Circolo Dove ci sono indicati I nemici presenti In quella zona Sì Ok Io me lo sparo dentro E Ma io il circolo Ne vedo sempre una parte Dentro al mio Al mini La minimap Non vedo mai So che è difficile da spiegare così Eh infatti Non sto Tanto capendo Cioè non vedi un cerchio Ah ma allora muori Sulla mappa Non vedi un cerchio Mi sono scordato di paracadutarmi Dio pellegrino Devo capire perché non mi succede E' come se avessi la minimap Troppo zoomata Non so se mi sono Mi sono spiegato Non so se c'è anche un modo Per Mostra hood Visibilità mirino Mini Ma li mortacci Non so se ho chiuso in maniera positiva Ora già si può festeggiare Ovviamente Mo le opzioni Non le posso impostare perché Questa schermata Della fava Ragazzi Dio ha deciso Che stasera io non possa giocare E' andata lì alla corrente A tutto il quartiere Ma lol No E ragazzi Ragazzi Ci credo Vai di rush Potente E' di rush ma da carrozziere Dobbiamo andare adesso Vai 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 Spacco tutto Spacco Allora C'è la torretta Sì Dimmi se vedi l'entrata Del Po' più avanti Po' più avanti Pochino e basta Ok Allora salti là dentro Emo esco C'è già gente Dovevi aspettarle Non dovevi sparare subito Sono tutti Sono 10.000 C'è anche un cecchino Della fava Vai 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 Che mo li fai Sperando che non Non prendano Aiaiaia Non ti tirano le granate Guarda quanti ne sono Boom Quando arriviamo là Devi sempre aspettare Che loro arrivano in gruppo Escono dalla Fanno l'obiettivo Escono in gruppo Perché se ti sentono sparare Fanno il giro E ci fottono Quelli arrivano proprio in mo' una volta che fanno l'obiettivo escono dallo ragazzi è possibile che questo già sta qua e muori guarda la madonna 20 80 colpi ho sparato bisogna andare a su eco si guarda sto stronzo a vedere su eco ma eco la stiamo prendendo noi quindi da l'altro lato bisogna andare grandebrook58 dice mark palm puoi ingrandire la minimappa per i flare capito ma io l'ho già l'ho già ingrandito tra l'altro rispetto a quello che è la cosa tradizionale ma non la vedo lo stesso dio senza tetto che le basquets 1982 ha appena bestemmiato ma no vabbè dai su no vabbè dai su dai su eco rosica rosica stavo su delta mannaggia le righe e andiamo insieme però perché no non va bene in automatico il rigotti no va bene no bueno se sei se sei credente non gioinare se non sei credente puoi gioinare tranquillamente con chi parli abbiamo cazzo un ragazzo che ci sta vedendo e ascoltando si infatti la sua fede potrebbe subire un potrebbe subire non tutti gli obiettivi ottimo un po' un carro io naturalmente ci sarà anche maria grazie basquets per il nubo vorrei far notare tutte le lucine di natale accese sulla nostra destra io sto facendo sto facendo solo da testimone a tutto quello che sta succedendo su foxtrot c'è gente che sta facendo salsicce e cotechini eeeh tutto molto bello guarda guarda la gente veramente imbarazzante papà eh però me la porto a casa me la porto a casa li abbiamo chiusi al loro spawn ci tenevo a sottolineare che stavo per chiamare un medico ed ero io medico solo per le concitazioni del momento nel momento bene boom headshot io lo butto giù e mi dà assistenza ho fatto un passaggio un po' ma perchè 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 dove cazzo è andato perchè dove è andato l'hai visto il carro lì si 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 stai andando alla carlona no no ahhh gesù questo si chiama proprio di un maiale push push alto livello proprio guarda la gente guarda ma perchè risponi sangiovese guarda che cazzo di bordello no questo è bagdade stanno arrivando in maniera massiccia c'è ci mancava il treno allora brooke dice comunque ma su opzioni in gameplay ha minimappa per l'aereo il carro del soldato io col flare vedo un cerchio l'ho aumentata di abbastanza aspetta 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 che qui ci sono dei problemi gravissimi cioè che io sto per morire ho capito boom 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 guarda la gente guarda vabbè nooo mi ha baionettato no è impossibile qui qui è no no troppa gente è impossibile continua push 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 nel 28 mi hanno sparato ci mancava uno che mi faceva un clister dopodichè qui c'è il presepe sulla destra anch'io e poi non dimenticare che io sto come medico e quindi ho un'arma un po' così e tu vai a morire ok devo controllare si l'abbiamo provata ma purtroppo io come compagni di clan ho dei vecchi cerebrolesi e quindi non l'abbiamo giocata più di tanto vabbè vabbè bella 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 mappa l'ambientazione spettacolare sono queste cose come tutte quelle mappe trincerate come come per dun sono pieni di cecchini pieni di gente camperata solita storia qua ci sarà santo cielo mappa anche c'è la fiera del salume qui il treno nemico ha scorazzato ma l'hanno schierato 20 minuti fa il treno perché me lo da adesso oh dio si ma se mi passi davanti mentre io no ti ho salvato la vita non hai capito si ma guarda alle spalle è salvato la vita tira i pacchetti tira i pacchetti io li perdo i pacchetti tira i pacchetti bella anch'io c'è gente dappertutto qua mannaggia dove vai se la banana non ce l'hai oh che bello nuovo grade classe ottenuto classe supporta 22 guarda i nemici stanno lì eh come disse cicciolina lì lì è un po' vaga come fa si hai ragione mi serve un pacchetto medico è un attimo che sto facendo delle delle sabbia delle sabbiature a che no dei pediluvi sto facendo ma ci dobbiamo spostare perchè il supporto mi chiede munizioni boh che tu non sei supporto? si ma ho un supporto che mi chiede munizioni ah il supporto li chiede a te? momenti di follia pure io sto andando a delta se tu attendi io vengo con a vectua comunque li abbiamo distrutti 935 a 278 che non c'era contro pippo e pluto contro il busto arsizio come direbbe mio padre vai per winni qui secondo me la situazione è gravida dove cazzo stanno i nemici come? ti ha dato fastidio se non sei morto sono andata a morire io questo è qui sopra che mi aspetta nella casettina qui casettina qui su amiens è lì dove c'è delta su non fare il il precisino della fava che vado qua vedete così eh foresta tutta la vita mi dispiace pessimo pessimo comunque brooks vuoi join eh il party dovrebbe essere penso che tu lo riesca a vedere il party secondo me no mi sa che è chiuso il party allora aspetta che lo invito non lo posso neanche invitare ma ti suggerisco un giocatore vediamo se me lo da si me lo da ok e si è permesso ma dove cazzo lo vado a prendere io dove il tuo invito il tuo suggerimento c'è parla di chi? no su party non c'è eh ma occhio al mio rush adesso eh se parto se parto dalla giusta posizione guarda il rush eh magari muoio dopo 30 secondi però ci prova che infatti non mi ha dato quello che volevo però ci proviamo lo stesso ah eh mi ha fatto partire a casa al pusterlengo proviamoci proviamo lo stesso ci proviamo lo stesso che pinghe di merda ma se non lo so che cazzo succede io sul fiatone era veramente lontano comunque sicuramente troveremo già nemici sul ponte e siamo partiti dietro levati dalle palle dai sali 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 apriamo un botto sali apriamo un botto bravo così 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 dove cazzo stanno tutti dove cazzo stanno tutti dove cazzo stanno tutti cazzo il gas cazzo il gas c'è la fiera del bestiame qui deve essere una sagra ecco qua mi hanno flancato ma dove cazzo stavano tutti bravo medico bravo un applauso abbiamo due granate facciamo un giro sotto muori oddio vabbè ne vado di tutto vedo pure una lampa di vino aperta tra l'altro ovviamente che cazzo ma uno ci può mettere un caricatore a buttare giù la gente no non può essere ma qui ci siamo incastrati come dei pirla passi passi la seconda volta che mi freghi il flammiere no aia mi sono castrato mi sono castrato ammazzano come una mazza ho un flammiere su argonne a meno che non stai su alfa bravo inutile che da lontano ti fottono eh si sono anche argonne questo è un posto assai scomodo verico ci ha provato devo vedere come la situazione su su bravo ma cazzo duro niente visto un individuo sta mancando sicuro non ho fatto una laggata clamorosa io eh arrivano cioè è qua ma buonasera a tutti eccolo il cretino guarda la gente qua guarda la gente si si è più preciso quando dici guarda la gente ma non ci credo no non è per lo stream il ping il ping alto è proprio il server che abbiamo scelto all'inizio però ancora non non iniziava lo stream poi con la connessione che c'ho io lo stream non lo sente neanche fortunatamente però come cazzo si fa spammare su una granata anticarro proprio il server che non lo so fa cacare penso che dopo lo cambia oh oh la tripla con l'anticarro o la tripla con l'anticarro come mi piace fare un giretto di qua vedete se c'è qualcuno scivolata per fare il figo passi da dietro passi da dietro uno è entrato qua eh oh e muore o no? e non muore dio delle città vado a fare il figo con l'hammerless oh dai medico dai medico sono manchiamo neanche un po' levati levati che devo fare kill buttiamo un anticarro giusto per fargli sentire la presenza e infatti gliel'ho fatta sentire la presenza manchiamo di qua ma c'è gente un amico cazzo eh vabbè va il flammiere oddio eh vabbè è successo di tutto grande grande brook ha buttato giù il flammiere il vero problema è che siamo tutti morti però abbiamo preso Charlie non so ci deve essere qualche problema in generale guardate i ping guardate i ping cioè non ce n'è uno che pinga meno di 50 41 c'è uno da noi pazzesco di là c'è un 23 Armin van Buren ma sarà olandese anzi come direbbe Timoteo van Buren van Buren e all'ascolto c'era mia madre che saluta perché è ovunque è ovunque vabbè qui bisogna fare solo io mi posso incastrare nelle rocce però il flank lurido anzi laido guarda la gente ce la vendemmo ce la vendemmo la 3 quanto è lenta quest'arma guarda la guarda 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 le doppie con l'handicarra ma no c'è i sandali ma che è tutta sta gente ahia ah avanti dietro di lato pic dove cazzo è andato pic effettivamente dove dovevo dire buonasera a tutti di nuovo stavo caricando e nel frattempo stavo facendo PR con la donna stavo facendo un po' di gosso stavo caricando ma era stava caricando un camion che era sotto casa pieno di no era in coda adesso sto caricando argon ma dobbiamo andare a bravo Enrico ma è di pronto perché pingherà a merda eh non so perché ma è nemico sopra Davide che non l'ho visto per niente sto stronz puzzava si sentiva solo la puzza ma non l'ha fatto ad Emma mannaggia la miseria farò io 76 Emma sta guardando il live in questo momento quindi ti sente ciao Emma ti ho appena mandato una foto è sul balcone che sta vedendo la live ma e lui è nubo e non ha un generatore la prossima volta gli ha un generatore a nafta devi mettere oh faccio la prova l'ho fatta l'ho fatta dove siete voi? ho fatto la provata io sono bravo dentro al bunker ah ah perché grattarsi in questo momento no? siete bravo? grande brook si io sto bravo dentro al bunker oh no oh no oh no oh no oh no pingo 164 beh buono ma non so perché ma perché io ho l'equipaggiamento ho un martello ma come cazzo mi è venuto in mente? ragazzi ma chi è che l'ha scelto il server scusatemi no è proprio così c'è da essere un problema ho scelto io eh abbiamo un problema si ma non cioè neanche ti ho preso tra l'altro no ma io ti ho preso da dietro non ero quello che stavi spavano ah ok ah meno meno male eeeh pingo il 2520 sinceramente giocare così no ma tutti pinghiamo alto eh ho capito ma che cazzo giochi a fare scusami allora finiamo Argon e poi proviamo a cambiare server dove cazzo vai ecco ma cazzo stai ma cazzo stai ma cazzo stai oh hai il gas il gas serve serve mangi due fagioli sai che deve essere la prima volta che lo dici ma comunque c'è qualcosa che non va a me da nemico colpito 91 eeeh e il nemico resta con 55 di vita story of my life è quello che ripeto da mille anni quando c'è il ping troppo basso io faccio hit da 90 e il cristiano la rimane sempre con 40 50 che non vanno i colpi non entrano i colpi e te ti dà come hai colpito ma non entrano dio banana che puttana che paralisi vado a giocare a my little pony tra poco eh se resta così ma vedi che dà fastidio no non è che dà fastidio è che non ha senso ma sembra sempre alle spalle 35 gradi che bello sempre alle spalle ma che palle guarda 35 gradi con le cuffie che bello che provata che provata finito i colpi ho finito le munizioni dunque dunque finito i colpi cazzo 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 andare in giro con l'hammerless facciamo le kill con l'hammerless cioè proprio io non riesco a uccidere nessuno no io non ammazzo nessuno che cazzo perché eh vabbè questa era chiamata la morta 86 e resta 36 giustamente vabbè sedici caricatori per ucciderne uno sedici più due sputi e una caccola ho dovuto buttargli ma cazzo si fa non ci pare così guarda la gente sotto al ponte guarda la gente sotto al ponte guarda la gente sotto al ponte dai granata fai qualcosa niente niente mai una gioia però il gas funziona che vabbè in realtà c'è gente all'inizio del ponte è tutto intorno è tutto intorno abbiamo gente anche che ci flanca flanca dietro sento passi sento passi eh vabbè questo col bastone guarda non si capisce neanche come cazzo si chiama ed al cactani jesus io sto in mano a cristo ah grazie medico ecco credo che dritto a noi ci sta gente alla fine del video oh il filo spinato di dio guarda questo manco aveva alzato l'arma mi hai fregato la kill però sei un fetente schifoso adesso me l'hai fregata tu però mi ha dato assistenza che va bene io ho anche finito i proiettili ti carro cos'è che hai detto scusami sei stanca? aia va dai gli snippy anch'io sta sul ponte non è solo qualcuno altro parca puttana sta sotto il bravo medico dai che arriva il medico bravo su dategli una medaglia ora ora andrà di qua è che c'è sempre un bordello passi ma perchè sono tutti riuniti sotto sto cazzo di ponte? vabbè ma ormai il ponte è il nostro nel senso non abbiamo fatto l'obiettivo come dei noob però il ponte ci siamo tutti noi che significa che tutto il resto è noia bravo qualcuno ricordi a vick che è in live è vietato cantare in live? si per la dignità dei di emma ah c'è uno sdraiato in fondo no vabbè eh a quello ho sparato io e adesso uno è passato dai cazzo dai cazzo a uno no l'ha rialzato l'ha rialzato bravo brook dagli il culo brook di beautiful comunque vedi nonostante ping di merda sto facendo un onestissimo 3610 che ti fa capire che il ping anche se sbiellato ci tutte volte si questo aiuta gott tallic vette 91 ne ha fatti forse 10 tutti insieme purtroppo non è veritiera questa partita non l'ho preso non l'ho preso vaffanculo no non morire è morto no vabbò mezz'ora per ucciderne uno ah tu manco si quando tu mi hai sparato io ancora neanche ti avevo visto arrivare cioè boom saliamo di qua no se puede no se puede no bravo ci sta una testa c'è delle laggate senza precedenti ho spagliato la granata se quella entrava faceva almeno 2 kill pd ma noi cazzo ma proprio Vic dopo questa l'ho scegliuto il server vediamo se è diversa la situazione lo prendo lo prendo lo prendo pazzi no medico 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 pazzi che vanno di qua lo sopra lo sopra e quando li prendo io da qua cazzo ma come cazzo è possibile? i server sono stati tutti tutti in Irlanda e muori tutti in Irlanda eeeh sono tutti siete tutti ad alfa siete ma non vi fate un po' schifo io sto facendo le salsicce ultimamente queste salsicce sotto il ponte il server non può essere stato in Mediorente cioè o è Irlanda o come cazzo come cazzo me la trova? io ho fatto match match ma dai occhio che arriva uno alle spalle eh pd ecco perché ci stavano quelli con i nomi strani io ho fatto partita veloce ma no quindi sarò stato in Slovenia? ma è impossibile ma è impossibile come è possibile? io faccio sempre partita veloce per quello eh io ho fatto partita veloce ma come mi ho fatto a trovare un server ero stato in 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 Kurdistan comunque se sono così me li cerco tutti i server guarda qua le salsicce ho finito i caricatori c'è mid listo questo server guarda anche una kill con la granata a gas guarda sta a fare i kill con l'hammerless eh vabbè basta vabbè Vic dove cazzo vuoi andare? eh ti ha spammato me ne sono accorto che stavo già andando via che hai di tu Vic maledetto ti ho lanciato anche un caricatore vuoto hai visto? almeno una doppia l'ho fatta vaffanculo fai le doppie? come Ronnie Coleman se riesco ecco perchè si chiamano tutti strani guarda Mohammed Zohair Abdulaziz Middle East significa che sarà veramente in Arabia sto coso Mohammed Abale o in Turchia sarà Eid Ail malloll ma tu ti rendi con malloll veramente ma da la rave Khaleed Abu Zarani WIC renegade cioè ma ah quello è un bomba ha visto? comunque devo metterlo tra i preferiti sta server ah si si Dd 46 12 mancano i migliori server irlandesi Ho fatto il flamiere mortacci De dio Solo che sono a 2 adesso Quindi basterà uno starnuto Per decedere No vabbè ma voi fate il cazzo che vi pare Io rimango sul tuo server No no io riesco Sceglilo tu il server Che va bene Ma io faccio partita veloce Mi trovo a cose normali Ma l'ho fatta pure io la partita veloce E ho capito ma Non posso spawnare attorno alla gente qua C'è anche Armin Van Buren Vuol dire che è anche un olandello Guarda si è accesa tutto Allora usciamo Esci da sta merda va Vabbè una cortesia Comunque Solo per far vedere a Ema Torno subito 48-14 Ema giusto per far triosicare un po' Oddio ma hanno messo anche la cosa della squadra migliore Sì 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 Adesso lascio fare al cretino Lascio fare Se la vede lui Cerca se il server dietro casa Rovigo dove cazzo sta Poi mi rosica Come potete vedere dalla schermata Questa è la mia tesi Che ho fatto partita veloce Conquista E mi ha trovato il server in Tibet Ho stato in Tibet Ma quanti follower ci sono? Ma a quanto pare Credo solo uno Ema secondo me Ema dal balcone Ma che poi Ema scusami Se non ha corrente Vuol dire che anche internet è spento Il che vuol dire che ci sta seguendo Con la connessione del telefono Sicuramente Ma lui essendo un borghese Avrà anche un pacchetto collettività Alto livello Esatto Sì infatti The Basket Sì bellissimo Scrive Raga io approfitto di questa maledizione Nella corrente E dormo qualche ora in più Anche perché nella live Ma porco pip Sto rosicando Porquista Però devi ammettere Matteo Spunnato Ma avete già gioinato D'altra parte? Io sono entrato In una fortezza di Fao Meravigliau Non so se vi arriva Io mi unisco a un amico Vi arriva il mio pensiero Sto caricando Una mappa di merda Non sto caricando Anch'io E' qui che si vedono i giocatori Fatto la doccia Venti minuti fa Già puzzo Perché è meglio che non commento Sto tipo evaporando io Lascia stare Sto aprendo un battle pacco superiore Vediamo Skin automatico 19-18 Savoia Leggendario Yes Quello è Savoiardo In realtà Non è Savoia A me è uscita Una figurina di Cucureddu A me di carrozzieri L'altro giorno Morris carrozzieri Che non è il nome Ma bensì La mansione L'attività Quindi io mi ho abbandonato Anche il live Secondo me no Eh ma se non c'è Skit che c'è Uno che lo sta guardando Non ha abbandonato Allora Giustamente adesso Il ritorno Il ritorno del live Eh ma se non c'è Skit che c'è Uno Beh Allora Io ping 54 Che mi pare Onesto Brook se hai Voggia Come si suolta Se hai voglia Puoi giornare Il party Penso Gliela inviare Hai inviato L'invito Marco Ma io non sono capace Ma che gnub Aspetta Me lo rifaccio Aspetta un attimo Io poi ti suggerisco Questo giocatore Che inviti A me viene fuori Il La linguetta Che mi dice Ti ha invitato Ti ha suggerito Un invito Ma dove cazzo Sta l'invito Delle notifiche Non ci sta l'invito No Allora Proviamo a vedere Se riesco a invitarmi Se riesco a invitarmi Direttamente io Vidi In vita Da giocatori Si Inviato Io sponerò Su Vic E gli sparerò Nel culo Però Come un coglione Ho fatto Sono assalto Quindi inutile Mettersi dietro Vorrei Vorrei Precisare a TheVaskets1982 Che ci sta seguendo Dal suo balcone Brooke si è unito al party Buonasera Non sto oscurando i messaggi Anche se avrei Vodge Non lo sto facendo Ciao Luca Porca miseria Buonasera Davide Sono appena Sono appena Morto Quindi Vic Sei un camper Di merda Comunque Si 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 Il Mark Il Mark 3 Che fucile Se non mi sbaglio Spettacolo Dunque Dall'accento Non mi sembri di Catania Luca Quindi Eh Appunto Stavo arrivando Proprio lì Non lo sappiamo Ok ok Decisamente Questo mi ha snippato A bruciapelo Mi ha infilato la canna Nel Sotto un rene E ti pareva Che veniva uno Infilarmi il coltello Nel sedere Ancam Il suo supporto E' abbastanza odiata Questa Porco Porco Cazzo Aiaia Aia Fai Quella torre La farai calare Guarda Ok Io faccio un po' di casino No Non faccio un po' di casino Perché mi ha appena Seccato un cecchino Della fortezza Diciamo che a Charlie Stiamo abbastanza coperti Però non mi posso affacciare Che dalla fortezza Mi tirano le pietre Eh Lo so Io adesso Eccolo lì Dove è quel figliaccio Di puttana Ah Ma allora Ti brucia un po' Cazzo C'è uno a fianco C'è uno a fianco Come stiamo perdendo golf Ma se ci sono io a golf Con le bende sugli occhi No Stavo facendo un aperitivo Dio Ah Ci dicono dalla regia Che Brock Non si sente nella trasmissione Eh Avevo lo stesso problema Che ho avuto io Un sacco di volte Devi impostarlo dal party E devi abilitare La trasmissione Della tua voce Perché se no Sì sì Se hai voglia Tranquillo Se ti va Se ti Aspetta che sto per morire E io Di nuovo Vorrei informare gentilmente Vasquez 1982 Che non è una cosa Che dipende da me E che andasse a dormire Vasquez 1982 Mi sta facendo solo polemica gratuita Invece di rompere i testicoli E la prossima volta che comprasse un gruppo di continuità Cento passi E mi sta venendo a fare E invece no È quel coglione Con due L Di Vic Prova a chiedere se adesso mi sente Dovrebbe rispondere lui Ah dai vero Prova a insultarlo Quello è il metodo migliore di solito Per avere dei riscontri No dai Cavallo Adesso cavallo È stato Consenti Trasmissione audio È quello È quello È il problema Di solito Dovrebbe andare Ma se puoi giocare una partita Dietro un muro No Ho sparato sei colpi Mi confermo dalla regia Che ci sei Ho sparato sei colpi Ok lo saluto Ciao Aspet E invece era un cactus Boia E sbottonatevi Perché non state bestemmiando Ha ragione Dio Scusa E che abbiamo uno standard Luca da mantenere Capito Che No poi c'è la gente Ci rimane male Adesso io ci riprovo A fare questa cosa Ma io morirò un'altra volta Già lo so Io voglio tutte le sere Devo fare il rapporto a satana Che puttana E il flammiere te lo prendo Perché Questa mappa è quasi inutile Come un culo senza buco Senti come sparano Eh dai È la prima volta che l'ho visto Ho detto bellissima Poi ci ho giocato E purtroppo è quello che è Dei grossi limiti È sbilanciata Gioga molto su Bravo e Charlie E Sì 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 Iguale Ho fortezza Tutto il tempo nella fortezza Porco cazzo Tre colpi L'ho tirato Poi sinceramente Non so che cazzo Di armo Tanto C'è un carro Vic Vic ma Questi infarti Che mi fai venire ogni volta Che Tra l'altro Grazie al tuo suggerimento Adesso sento i passi Delle persone E questo passo Mi dovrò mettere l'alter La vic sta cagando Ma che bello camperare Eh ma non fare il polemico Su via In che senso Come fai a non morire Dio Bertuccia Io sento un carro Alle mie spalle Sento anche uno Che grida Supporto Insomma credo che Non durerò A lungo Luca occhi A dare le spalle Alla fortezza Perché c'è un tizio In finestra Lì che No ma è proprio pieno Ti dico Proprio pieno di gente Sto provando ad assaltarli Dritti per dritti C'è un carro di fianco Che non mi ha visto Incredibilmente Ma sono su C In questo momento Se mai dovesse a morire Sono morto Un cecchino Dalla vostra parte Dovrebbe esserci un cecchino O sotto di voi c'è un carro O dalle vostre parti c'è un cecchino Ovviamente sono nati sul carro Perché mi hanno sparato Da dove sei te Ma infatti Nella parte sinistra Eccolo lì cecchino Sta proprio dove sta mio fratello Dove sta Davide Boh mare va di tutto Scarpe Eccolo qua Un cecchino è un cazzo Di mirino ottico Di Seb Stadler Io l'ho fatto con la pistoletta Non ci posso credere Eh ma sei un nob Ah ma allora sei tu sei Maledetto bastardo Ah Luca ma tu sei medico? Sì Ah ok Grazie per Le supposte Ah vai tranquillo Vai vai tranquillo C'è un cecchino sotto di voi È quello che mi ha sparato prima Prova pre L'ho ammazzato Buono Dai Cioè comunque L'individuatore Del medico è veramente Abbiamo un problema a delta Che ne sono 12.500 Sì Li vedo E in più Mi sto flencando un pochettino E in più ce n'è uno sopra è salito adesso e mi ha fatto Sì e dove siete voi raga arrivo non schifate E due Ok io non Provo eh Occhio che dove sono io ce n'è uno eh Non starà benissimo perché ha già preso due Non mi Sai quando non ti funziona la siringa? Presente non so se ti mi è successo Certo E te sei sopra Sopra il cadavere premi due volte E lui non viene via Esatto È successo in questo momento Che ha posto la siringa Tira pure qualcos'altro Prova appoggiarlo La situazione Foxtroteko com'è? Perché io vorrei Sponare lì e Mettermi a tirare Col cecchino Una buona idea Col cecchino su golf Occhio E qui e qui ce n'è uno Vorrei Eh Dire una parola E ma Ma fottiti Io sono morto Già lo so Cazzo di cecchino Tom arrivo D'arte le supposte Vada tranquillo Camper un pochetti in occhio E dall'altra parte Ci sono 7837 Che c'è Kim Sì ho visto È pieno Ah lui ci sono messo Ok Bene va Io pusho Pushi e ti seguo Occhio che abbiamo gente Sulla costa Te passa Passa sulla costa Te vai tranquillo Ma che granata di merda Ha tirato Mi rifregarà vita Per sta granata Sì ma non c'è nessuno Eh bravo Cioè questa è una cosa Che veramente C'è un cecchino Spottato È fastidiosa Tu spari a uno E poi nel momento In cui gli sta arrivando I proiettili Salta Perché Te l'ha schivato Esatto Perché Incredibile Era che Ok Tu mi hai visto Io ti ho visto Ci siamo visti Ci siamo salutati Noi ma domani sera Vado a Mignotte Sotto che giocare con te Io pure domani sera C'ho il puttantù Rema Io pusho Occhio occhio Guarda quanta gente Verdinci bacco Vai giù Vai giù Ho spottato un medico Sulla Veramente un sacco di gente Sta scendendo lì Ciao Ema Mi saluta Ciao Ema È stato bello Ciao Ema È stato un piacere Passa Ti ho visto Ma quel supporto lì È imprendibile Praticamente Porca puttana Ma ficca Perché sei mutato Ma io è mezz'ora che parlo E nessuno mi sente Che quarta Sì Posso confermartelo Cioè io è mezz'ora che stavo parlando Che chiedevo Tutte le varie cose Infatti nessuno rispondeva Non lo svelare Sì comunque Non ti sentivamo Piacere sono Luca Ah infatti Piacere Cioè io mi sono presentato Ti ho chiesto se il nome veniva dal lag perché scatti Tutte le varie cose Ah io qua nessuno ti ha mai sentito Io almeno non ti ho mai sentito Cioè però sapevo che c'eri Però no no Hai detto 20 minuti della tua vita Vabbè Vabbè Buona sapersi insomma Sono cose che capitano Anche il migliore Sì sì C'è il carro Andiamo via Vicky Si sta seguendo Si sta proprio seguendo E sta facendo L'indifferente Dietro la casa Lui è ripuntato Della serie Appena uno sa Non faccio spara Esatto Resterò qui in eterno Carlo sta cercando di fare me E sta su Charlie Aiuto Perché Perché la corazzata è guidata da un C Vabbè Fammi stare zitto Appena ucciso Bad Attitude Yes Adesso spona sul carro Mi viene a prendere Il carro mi ha visto Sono su A Ma il carro mi ha visto Eh io non so cosa fare Sta però Sta rientrando il carro Eh mi sta seguendo me Si sta girando verso di me Che io sono Cazzo Che io sono proprio qui Oddio un cecchino C'è il supporto eh Sì c'è anche un cecchino Mezzo morto Morto Sì C'è il carro ad alfa Eh il carro No siamo due medici Non riusciamo Non riusciamo a farmi niente Probabilmente ci fa tutti e due Ecco A me mi ha fatto Infatti Io sono qui Faccio l'indifferenza Cerca di restare vivo Che nasco Nasco a salto Se riesco Sì Su delta c'è anche la madonna addolorata scalza In questo momento Sui carboni ardenti La voglio vedere Esatto Esatto E adesso Giustamente Hai lo screenshot Cosa hai Hai la dinamite Ho perso le mine E la dinamite Però le mine dovrei riuscire a passarli dietro Non so se ce la faccio Sì ma c'è la nebbia Abbiamo il favore della nebbia Eh sì Proprio quando uno fa lo scout È il favore della nebbia Giusto? Esatto Ma addio banana Il carro sta avvicinando ad alfa È sceso Qualcuno mi sa Noi prendiamo alfa Comunque qui Da delta verso golf C'è lo stesso movimento Dell'ottoberfest Più o meno C'è su azne uno Vicky Mi supporto È lì dietro la roccia mirato Che ti aspetta Anche una scatola di moncerie Io sto amaramente camperando Con l'antiaerea Sulla faccia È lì è lì È lì È andato Ce n'è un altro comunque Dici? No qui no C'è il carro che è ancora vivo Non so se l'ho buttato giù